La seconda generazione di Peugeot 308, punta di diamante della casa con oltre 800.000 esemplari venduti dal lancio, si è recentemente rinnovata evolvendosi in uno stile più dinamico ed elegante, incentrato nel nuovo frontale completamente ridisegnato. Il cofano più orizzontale e muscoloso integra una calandra verticale ingrandita, con il leone al centro e il nome Peugeot scolpito nella fascia superiore, incorniciata dai nuovi proiettori che sugli allestimenti alto di gamma sono full LED. Anche la variante Station Wagon beneficia di tutte queste migliorie estetiche e al posteriore presenta gruppi ottici allungati verso le fiancate. E sull'allestimento GT Light e GT si fa notare per il doppio terminale di scarico incastonato nel fascione nero a contrasto, un mix raffinato tra stile, dinamismo ed eleganza, con un tocco di sportività a ricordare il DNA sportivo della casa declinato sulle leggendarie GT. La variante GT Line aggiunge un pizzico di pepe al carattere del 308 con cerchi in lega specifici, minigonne laterali affilate e paraurti sportivi con fendinebbia integrati, mentre all'interno l'ambiente rinnovato, con una plancia a sviluppo orizzontale dal design pulito e minimalista e l'immancabile Peugeot i-Cockpit si arricchisce di cuciture rosse a contrasto per volante, plancia, sedili sportivi e leva del cambio. A coronamento di tutto ciò fa bella mostra una pedaliera in alluminio che ricorda il tono sportivo dell'allestimento.